Diciamo che sono due amici che continuano, visto che è la seconda serie, a sperimentare questo nuovo tipo di relazione dove tra le varie cose che fanno insieme due amici includono per la prima volta il sesso. Poi ci ubriachiamo e ci sposiamo e facciamo un po', sì, online. Ecco, diamo un'esclusiva, ho messo l'abito bianco. Sì, sì. Melissa Sat e Omar Fantini sono pronti nuovamente a infilarsi sotto le lenzuole insieme per la seconda serie di Amici a Letto 2, la sitcom trasmessa sulla pagina Facebook di Comedy Central e sull'omonimo canale di Sky. Numerose le novità e anche gli aneddoti raccontati dai due protagonisti. Quindi com'è Melissa della sitcom come Amica Letto? È creativa, a volte troppo creativa. Come vai? Perché spesso ha a che fare con le fruste. E diciamo che la Melissa attrice, a differenza della Melissa della sitcom, tende a non staccare i ruoli e usa lo stesso peso che userebbe nella vita quotidiana. Quindi ho ancora dei segni. No, appunto che pensava che quando c'era la scena delle frustate, no? La scena un po' sadomaso, lui pensava appunto, ah vabbè, tanto Melissa è delicata, è carina, e invece l'ha presa di brutto. Una Melissa satta tutta da scoprire, come quella che posta su Twitter le foto delle sue prestazioni in cucina. Certo, è che tutti pensano che magari ordino sempre, mangio sempre fuori, invece no, io cucino. Quindi tutte le sere alle 6 e mezza, 7 metto il mio grembiolino e inizio a preparare con le padelle. Che cosa sexy. Solo il grembiolino, eh, niente sotto. Ma non è vero. Ma chissà come aveva preso questa sitcom Kevin Prince Boateng, il giocatore del Milan, fidanzato non poco ingombrante, di Melissa satta. È venuto sul set, l'ha minacciato e gli ha detto, è una questione di vita o di morte. No, non è vero. Anzi, è venuto a vederci, si è molto divertito e comunque è il nostro lavoro. E poi alla fine, ho capito con chi si mette in competizione.